Gouan che va ad abbracciare Fabio Caserta e per lui questo è il secondo gol in due gare perché aveva segnato anche la prima giornata contro il Fano. Ottima la verticalizzazione da parte del numero 10, Drago Mir, poi c'è stata confusione, i giocatori della regione non sono riusciti ad allontanare questa palla. Ma è stato molto bravo Gouan a credere comunque di arrivare su questo pallone, lui che era di filato, ha attaccato l'area di rigore, si è inserito per ultimo e ha trovato poi il guizzo vince.